Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di una proposta di legge sul concordato preventivo. Io tra l'altro non sono uno molto avvezzo a fare conferenze stampe, l'ultima volta che sono stato qui ho presentato una prima proposta di legge sull'abolizione dell'Ira, perché devo dire che ha avuto una discreta risonanza mediatica, però è ancora ferma in Commissione Finanze. E mi auguro che questa, più che la risonanza mediatica, venga calendarizzata e realizzata anche molto in fretta, perché comunque è una norma di buon senso. Questa è sempre come tutte le leggi, le proposte di legge che facciamo noi come Movimento 5 Stelle, nel mio caso mi occupo di piccola e media impresa, quindi è una proposta di legge fatta per le imprese e fatta soprattutto scritta insieme a imprenditori e tecnici. E le imprese, abbiamo visto che quello su cui noi ci siamo occupati ultimamente, sulla cosa che ci chiedono loro al giorno d'oggi, proprio in una situazione di crisi, è l'abbassamento delle tasse e nel cercare di gestire la crisi per un'impresa. Questa proposta si articola fondamentalmente in quattro punti. La prima va a risolvere una distorsione interpretativa del concordato. La seconda analizza il concordato e attraverso una razionalizzazione delle risorse cerca di abbassare, anzi abbassa i costi, rendendola una procedura a cui possono accedere anche la piccola impresa. Con questa proposta di legge si velocizza anche la circolazione d'azienda, poi dopo vedremo anche qual è lo scopo. E la quarta va a delimitare il rilievo penale in caso di mancato versamento delle tasse. Vediamo il primo punto che sul concordato preventivo va un po' a risolvere una controverse giuridica per cui alcuni tribunali hanno sentenziato in un modo e altri continuano a sentenziare in un altro modo. Noi non vogliamo apportare di fatto nessuna novità, noi vogliamo far ritornare la norma proprio a come era concepita. Attualmente la formula del concordato preventivo permette di, in caso di apporto di nuova finanza, di poter falcidiare i crediti, sia quelli privilegiati che quelli chirografari. Attualmente sentenze della Corte di Cassazione hanno obbligato le aziende a falcidiare tutti i crediti salvo quelli erariali. Quindi ancora una volta lo Stato va a fare la voce rossa con dei crediti e lo Stato è ancora una volta il privilegiato tra i privilegiati. Quello che proponiamo tra questa legge è che in caso appunto di apporto di nuova finanza si possa ritornare a falcidiare, cioè a dare a non pagare completamente oppure pagare in parte i crediti anche allo Stato, a farlo ritornare al suo ruolo paritetico privilegiato. Ci mancherebbe, come alla stessa stregua di tutti gli altri creditori. Così facendo, che cosa si ottiene? A parte diciamo a tornare indietro perché? Perché primo si evita l'imprenditore di fallire. Secondo, si soddisfano tutti gli attori, tutti i creditori che sono appunto creditori di un'azienda debitrice, il punto cardine è che sono soddisfatto maggiormente di una situazione di concordato preventivo piuttosto che nel caso in cui l'azienda fallisca. Quindi diciamo è una situazione win to win dove un po' vincono tutti, cioè il punto cardine è che comunque la soddisfazione sia di tutti i creditori, quindi anche dello Stato, perché è un creditore come gli altri, sia più favorevole che nel caso in cui l'azienda fallisca. E diciamo un altro effetto positivo è comunque che viene effettivamente garantita il gettito erariale dello Stato, perché appunto in caso di concordato è superiore nel caso del fallimento. Un altro diciamo punto che si è cercato un po' di andare a mettere mano è ridurre appunto i costi. Attualmente il concordato preventivo è una soluzione molto costosa dove servono tanti professionisti. e noi si è appunto visto che soprattutto le piccole imprese, quindi noi abbiamo proposto per le piccole imprese, quindi quelle che hanno una forma di bilancio abbreviato sotto i 50 dipendenti, di razionalizzare i costi. In che modo? Nella procedura del accordato preventivo ci sono due figure che sono molto simili, una è l'attestatore e l'altra è il commissario giudiziale. Questi hanno compiti molto simili, però diciamo, è più o meno la stessa professionalità. Quando un'azienda è piccola, queste due persone possono coincidere, e comunque il commissario fa le veci anche dell'attestatore. Quindi si tratta di ridurre dei costi. Non solo, capita spesso che nel caso in cui il concordato preventivo sfoci nel fallimento d'azienda venga nominato un curatore. E guarda caso, la PRAS si vuole, proprio per cercare di capitalizzare anche le informazioni, che il curatore fallimentare sia proprio il commissario che aveva curato il concordato. Perché? Perché lui aveva già seguito la cosa, era già a conoscenza della materia, e quindi si affida a lui tutta la procedura. In questo caso, secondo noi, non è necessario pagare alla stessa persona due stipendi. ma nel caso in cui il curatore è nominato, è stato anche il commissario giudiziaro nel concordato, si può tranquillamente ridurre lo stipendio, invece che pagarlo uno stipendio nella sua interezza, può essere ridotto almeno del 50%, ma anche perché il lavoro che questa persona andrà a svolgere sarà sicuramente ridotto. E si è cercato anche all'interno di questa proposta di legge di favorire la circolazione dell'azienda, nel senso di velocizzare, in caso in cui la società voglia essere ceduta tramite una cessione oppure un conferimento, si è trattato di velocizzare l'iter. Perché? Perché all'interno di una procedura di concordato preventivo è abbastanza lunga, e soprattutto in questa situazione di crisi, una società perde valore. Quindi proprio per cercare di massimizzare, di soddisfare nel miglior modo tutti gli attori in gioco, cioè quindi sia i potenziali acquirenti della società, ma anche per capitalizzare al meglio la società debitrice, la società in crisi, si cerca di velocizzare la cessione oppure il conferimento. L'ultimo punto è abbastanza importante perché se ne è sentito tanto parlare, parla del reato per gli omessi versamenti dell'IVA e delle ritenute certificate. Effettivamente di fatto c'è un punto che chi non paga le tasse, in qualsiasi situazione, indipendentemente non si va a capire perché le paga, magari è in crisi, magari vuole vare dalle tasse, comunque viene criminalizzato. Di fatto è una cosa che anche il governo di oggi, che è su tutti i giornali, continuiamo a dirlo, vuole depenalizzare, questa cosa. Allora, è importante per dare anche come messaggio capire chi non paga le tasse perché evade per un tornaconto personale, perché vuole evadere il fisco, e chi non paga le tasse perché effettivamente non ci riesce, perché non ce la fa. non possono essere messi alla stessa stregua. Uno Stato che non vuole affossare le sue aziende in un momento di crisi è uno Stato in grado di riconoscere anche l'azienda in difficoltà dall'azienda trufaldina, quindi punire una a scapito degli altri. Allora, effettivamente, noi abbiamo detto che se esiste un'oggettiva ed incopevole difficoltà proprio nel pagare le tasse, perché magari con quegli stessi soldi l'imprenditore preferisce pagare i propri dipendenti, perché magari, adesso a me viene in mente proprio anche come caso personale, io sono un ingegnere, e tante volte ho assistito a situazioni dove le aziende di progettazione che magari lavorano col pubblico preferiscono essere in regola col DURC, quindi pagano i dipendenti e preferiscono evadere l'IVA perché se per esempio non pagano il DURC non riescono più a cedere ai bandi pubblici, quindi è un gatto un po' che si morde la coda e magari in certe situazioni non sono proprio in regola col DURC perché vantano crediti dalla pubblica amministrazione. Quindi in una situazione così controversa lo Stato deve essere in grado di riconoscere perché non vengono pagate le tasse. Allora quello che noi proponiamo e che per noi è giusto è che effettivamente bisogna differenziare colpendo unicamente i soggetti che non vogliono pagare le tasse perché evadono. Quindi tante volte noi anche come Movimento 5 Stelle abbiamo detto che ci sono i grandi evasori quelli che portano i capitali all'estero, ci sono i piccoli evasori che magari non sono a posto con le carte magari non ce la fanno e questi devono uno deve essere aiutato e l'altro deve essere punito. Allora questo è quello che noi vogliamo e quindi detto tutto ciò noi abbiamo iniziato a presentare questa proposta di legge verrà messa sul nostro strumento legislativo che si chiama LEX in cui tutti i cittadini quelli iscritti al nostro blog potranno commentarla potranno confermarla potranno proporre delle loro modifiche perché noi come Movimento 5 Stelle le leggi le facciamo insieme ai cittadini e insieme alla collettività che dopo sanno loro i veri beneficiari. Grazie a tutti. Io vorrei aggiungere un punto di vista sicuramente questa proposta va nella direzione di un miglioramento notevole nel rapporto tra fisco e contribuente intanto perché chiarisce una situazione una fattispecie giuridica che in questo momento può essere comunque soggetta di interpretazioni diverse a seconda appunto dei tribunali del giudice che si trovano ad analizzare una normativa che da un lato è interpretata dalla Corte di Cassazione in un certo modo e dall'altro lato poi si ritrova nella lettera della legge fallimentare ad essere ad essere ad avere un altro tipo di riferimento quindi anche per dare un taglio di maggiore linearità nel rapporto tra fisco e contribuente si stabilisce appunto questa possibilità si dà la possibilità al contribuente in questo caso di trattare i crediti che il fisco vanta nei confronti dell'azienda e con la stregua degli altri creditori privilegiati e quindi si stabilisce sicuramente questa linea ed è importantissimo perché sappiamo che la chiarezza e la trasparenza è alla base anche dei principi dello statuto del contribuente che non sempre abbiamo visto rispettati anche per l'avvicendarsi di decreti legge e di una normativa d'urgenza che costringe il contribuente a volte a versamenti repentini che non rispettano appunto un rapporto che a priori è stabilito leale e chiaro fin dall'inizio quindi questo è sicuramente un punto fondamentale un altro punto fondamentale è che grazie al riferimento legislativo che si fa nell'ambito della legge fallimentare che chiede all'imprenditore apporto di una nuova finanza all'interno dell'impresa per nella procedura nell'istituto del concordato si garantisce maggiormente l'effettività del gettito IVA e questo è molto importante perché anche in linea con i principi europei con quanto stabilito anche dall'Europa in materia proprio di regolamentazione dell'IVA infatti l'effettività del gettito è richiesta anche a livello europeo come principio cardine quindi sicuramente è un passo avanti notevole che speriamo venga assolutamente accolto immediatamente e calendarizzata appunto non come è avvenuto con la legge sull'IRAP che già c'è ancora nei cassetti della commissione finanze e che invece ci sia una maggiore solerzia come più volte caldeggiato dal Movimento 5 Stelle nell'analisi delle proposte del nostro gruppo altro punto fondamentale che il mio collega metteva in evidenza è il discorso questa è un'altra cosa che sta particolarmente a cuore a noi cittadini appunto e portavoce la distinzione fondamentale tra un evasore fiscale in mala fede e un contribuente in difficoltà e questo è sicuramente un altro punto che è migliorato sicuramente grazie alla lettera della legge perché la disciplina dell'omesso versamento trova una distinzione fondamentale in questo caso e quindi grazie a questa nuova si dà una possibilità all'impresa di sopravvivere laddove invece in questo momento lo Stato è assolutamente indiscriminato ed è causa di fallimenti spietati perché sappiamo tutti che una delle cause principali del fallimento di un'impresa è della chiusura di antiche crisi di liquidità ci sono imprese sane che possono continuare a vivere semplicemente se hanno un apporto un supporto in quel momento in un momento di critico dallo Stato hanno una redditività ma non hanno liquidità e quindi è importantissimo che venga fatta una demarcazione molto netta grazie grazie